Ma guardi, in realtà soltanto in Italia l'ambiente e la sinistra marciano di pari passo, perché la sinistra è un po' furbacchione in Italia, sapendo di aver perduto diverse battaglie culturali, cerca diciamo così di aggirare l'ostacolo e di riciclarsi con fasi movimentiste, contestazioni, insomma ne abbiamo viste, ne abbiamo conosciute, alcune anche assolutamente pertinenti e giuste. E l'ambiente è stato uno dei veicoli utilizzati la sinistra per tentare di riciclarsi e tornare sulla scena in maniera protagonista. Ma la destra e l'ambiente sono un connubio assolutamente indiscutibile. L'attenzione per l'ecologia e l'ecologia della responsabilità nasce da destra nel mondo, cioè dal pensiero conservatore, da quel pensiero che non vuole, diciamo così, difendere il vecchio, ma conservare l'antico, cioè ciò che è giusto, ciò che è sano. Perché nasce da destra? Perché la destra ha una visione della vita di tipo spirituale, della vita e del mondo, e ritiene che la natura sia l'altra faccia del divino, detto proprio del sacro, ecco, forse meglio. Ed è questo che rende questo rapporto particolarmente forte e profondo. Non c'è un'utilità e basta. Non mi curo dell'ambiente perché l'ambiente può, se ben curato, tutelare e salvaguardare la mia salute. Quindi in maniera egoistica io mi curo dell'ambiente anche per questo, ma il fattore scatenante che ci differenzia dalla sinistra è che la natura è l'altra faccia del sacro. Quindi questo connubio è inscindibile per noi.